buongiorno buongiorno a tutti in questo giorno di pasquetta questa è la terza pillola con la quale incontro volentieri tutti gli amici che mi stanno guardando in questo momento buongiorno a tutti voi a tutti noi un pochino più fortunati che possono rimanere protetti tra le mura della propria casa magari anche vicino ai propri cari festeggiando in qualche modo questo giorno di festa e buongiorno anche chi non ha qualcuno vicino a sé vive anche la difficoltà della solitudine e buongiorno ai meno fortunati che sono invece costretti a uscire per lavorare perché una parte dell'italia non si è fermata per permettere a tutto il resto dell'italia a tutti gli altri di usufruire dei beni di prima necessità e per aiutare quelli tra noi che sono a rischio che stanno peggio che si sono ammalati ad alcuni tra questi va oggi in particolare il mio saluto e sono i volontari i volontari che si sono messi a disposizione della protezione civile della sanità delle istituzioni delle associazioni sia pubbliche che private loro loro potevano come più come noi rimanere al sicuro pensando più a se stessi che agli altri come del resto facciamo quasi tutti quasi sempre per quasi tutta la nostra vita cioè il nostro modo di vivere pensare più a sé e al nostro ristretto gruppo familiare o amicale noi viviamo in questo modo le nostre vite viviamo molto moltissimo questa condizione di separatività dagli altri loro no loro si espongono al rischio di ammalarsi non sono obbligati da un contratto di lavoro non sono stipendiati non hanno il cartellino da timbrare eppure sono la in prima linea per noi e neanche ci conoscono ci sono molte brave persone che ci stanno aiutando solo perché sentono che questa è la cosa giusta da fare bello bello molto bello grazie mi domando anche se questo è già un primo frutto del cambiamento che molti auspicano però ci torneremo tra poco sul tema del cambiamento che mi sembra importante in questo momento rifletterci sopra indubbiamente tutto quello che ci sta succedendo avviene così così velocemente è talmente travolgente che noi non facciamo a tempo a mettere insieme un'abitudine una modalità di comportamento che subito viene scombinato questo piccolo equilibrio che abbiamo raggiunto anche con fatica e viene scombinato da cose nuove che arrivano da cose diverse da fare ora mi risferisco al fatto che tra di noi alcuni e anzi molti hanno in qualche modo trovato un ritmo nella loro giornata di reclusi in casa di rinchiusi è stato difficile ma alcuni si sono organizzati bene io stesso ai miei pazienti alle persone che si sono rivolte a me ho suggerito di fare una programmazione settimanale molto molto accurata molto precisa studiata bene a tavolino alternando alcune attività attività doveristiche quelle obbligatorie come lavare stirare fare la spesa fare da mangiare pulire casa fare ordine mettere a posto studiare gli studenti che devono studiare insomma affrontare le piccole o le grandi seccature tralasciate da anni alternando le alternando le invece i momenti di piacere di piacere che sono divano film in televisione che ne so riguardare le migliaia di foto che ognuno di noi si fa in vacanza e poi non li vediamo più ordinarle oppure momenti ludici con gli altri cose sono solo quei bei solitari che si possono trovare online che ne so apprendere una lingua su questi programmi online che si trovano dovunque ecco e l'indicazione è quella di fare una programmazione molto fatta molto bene e poi di seguire questa programmazione in modo rigoroso con orari ben studiati e soprattutto rispettati e così da dare proprio un ritmo nuovo a questa sorta di nuova vita che stiamo vivendo un ritmo che è deciso da me e non dagli eventi voi vi ricordate che nella prima pillola io io ho invitati a non lasciare non lasciare il timone di queste giornate passate in casa a eventi esterni o a decisioni dall'esterno e soprattutto dalle emozioni travolgenti che ci invadono ma di trovare il modo di condurre voi la vostra barca stringendo tra le vostre mani la barra del timone per andare nella direzione che stabilite voi e alla fine della giornata quella sorta di ansia serale che prende molte persone se si segue un programma fatto molto bene e lo si segue veramente scompare perché perché molta dell'ansia che proviamo soprattutto la sera riguarda la valutazione sulla giornata trascorsa su cioè sulle cose che non abbiamo fatto allora accorgendosi che non abbiamo fatto granché che ci siamo trascinati per casa abbiamo magari ciondolato un po non abbiamo dato un senso alla nostra giornata abbiamo come la sensazione di aver perso tempo e lì si fanno avanti molti altri fantasmi mentali e sensi di colpa mentre avendo occupato secondo la propria scelta e il proprio programma la giornata e avendo rispettato quel programma alla fine della giornata voltandosi indietro proviamo soddisfazione e un senso come di compiuto un senso di pienezza di realizzazione di obiettivi raggiunti non importa se siano piccoli obiettivi ma sono quelli che mi sono dato che io non altri io ho deciso di darmi e li ho raggiunti quindi l'ansia serale che si accompagna spesso ai sensi di colpa può addirittura scomparire una parte dell'ansia può essere legata come dicevo sempre nella prima pillola al fatto che ci lasciamo invadere troppo dalle informazioni su quello che sta succedendo dal punto di vista sanitario ebbene io già in quell'occasione vi ho detto smettete smettete di esporvi a questa vera e proprio contagio psichico dovuto a tutte queste informazioni ridondanti eccessive non ci servono lasciate perdere la stessa cosa vale anche per l'ansia mattutina perché quando io mi sveglio e sento incombere su di me dei pesi che non sono meglio identificati mi chiedo oggi cosa faccio come passo questa giornata come faccio passare queste ore magari ho davanti a me un mucchio di cose da fare che potrei fare alle quali però non ho dato ordine non ho dato priorità queste cose mi guardano tutte insieme sono molte sono troppe sono incombenti confuse mescolate imprecisate mettono ansia ma se ho stilato il mio programma non faccio altro che andare a guardare la colonna del mio giorno settimanale oggi che cos'è è lunedì che cosa ho previsto a quest'ora faccio quello che ho previsto a quell'ora non sono distratto da altre cose sono molto più focalizzato quando quell'ora è trascorsa non ho perso tempo non ho ciondolato domandandomi che cosa faccio cosa non faccio fra l'altro permettendo alla mia mente di divagare di lasciarsi avvicinare dalle paure da rimaginare su fantasie che in questo periodo sono frequentemente fantasie cupe ma sono stato con la mia mente ferma su un punto ho svolto quella parte del mio programma scelto da me passo al punto successivo questo guardate da molta stabilità alla mia mente e cancella ogni ansia su come occupare il mio tempo allora stavo parlando di questo nuovo ritmo che alcuni hanno trovato che alcuni si sono dati allora molti tra di noi hanno avviato il lavoro da casa tramite cosa i dispositivi tecnologici per fortuna oggi noi disponiamo di questi dispositivi tecnologici che ci hanno veramente aiutato tantissimo e ci hanno permesso di non sentirci oltretutto isolati perché noi attraverso uno smartphone o un computer insomma oggi possiamo vedere le persone parlare con loro non le possiamo toccare non ce l'abbiamo fisicamente ma almeno li vediamo gli occhi si riempiono delle immagini dei sorrisi delle persone che amiamo e tutto questo o questi dispositivi tecnologici hanno consentito di riprendere le nostre attività in un modo questo va detto che da anni molti veramente molti auspicavano cioè lavorare senza uscire da casa senza prendere mezzi di trasporto per raggiungere il posto di lavoro riprenderli per tornare la sera a casa con tutta una storia di conseguenze che si aggiungono a questi spostamenti pensate solo lo stare in coda nel traffico talvolta anche per un tempo lunghissimo lunghissimo tempo della nostra vita è intere ore della nostra vita passate così tempo non retribuito tempo scippato dalle code dagli incidenti dalle strade interrotte dagli incroci ingolfati da una marea di auto in lento movimento pensate sono stati fatte delle ricerche degli studi sembra che nel mondo occidentale si arrivino a passare in queste condizioni a trascorrere in questa in queste condizioni nei nostri 40 anni di vita quattro anni della nostra vita quattro anni della nostra vita passati in questo modo è una cosa pazzesca e poi pensate a quanto inquinamento che viene prodotto da questi milioni di motori accesi per ore accesi inutilmente potremmo facilmente dire oggi per molti di noi perché perché un piccolo microscopico virus ci ha costretti a fare un passo lo possiamo dire perché questo virus ci ha costretti a fare un passo che non riuscivamo a fare ci ha costretti a fare il passo dello smart working di cui si parlava da anni per il quale non ci si attrezzava mai pensate che gli esperti dicevano fino a tre mesi fa gli esperti dicevano che in italia avremmo potuto attivare lo smart working non prima di 10 15 anni io sento già dire da diverse persone ci sono già queste voci che circolano che per parecchi rimarrà questo il modo di lavorare ora io non so se avete fatto caso a come l'aria sia più pulita più trasparente di come in cielo le stelle siano più brillanti di come di giorno la luce sia diversa che non è più filtrata attraverso i fumi degli scappamenti delle auto o attraverso le particelle sottili le cosiddette particelle sottili che sono scomparse non so se se avete fatto caso a come si sentano di più i profumi perché i nostri apparati olfattivi si stanno abituando a stare meglio di come stavano e poi il rumore il rumore costante di sottofondo il rumore di fondo delle città del traffico delle grandi città noi c'eravamo a sue fatti ora le nostre orecchie si stanno rilassando ogni tanto percepiscono il silenzio questa situazione mi ha ricordato un'esperienza che io ho fatto veramente tanti tanti anni fa quando ero molto molto giovane e andai a trovare un mio amico che aveva una casetta su una piccola isola italiana a sud dell'italia dove non c'era né corrente né acqua l'acqua si beveva l'acqua dei pozzi che raccoglievano durante l'inverno l'acqua della pioggia dai tetti la combugliavano dentro questi pozzi e di notte quando veniva buio si accendevano le candele e le candele erano sufficienti perché una candela faceva arretrare di parecchio il buio che circondava tutto ed era un buio assoluto un buio con con degli stellati che non si possono immaginare non c'era inquinamento acustico non c'era inquinamento luminoso non c'era niente c'era una cosa a cui io non ero assolutamente abituato il silenzio per notti io non riuscivo che non riuscivo a dormire e c'era qualche cosa che non capivo era silenzio non c'era il rumore di fondo delle città della vita consueta non c'era prime settimane primi giorni sono stati un po difficili per questo poi mi sono abituato poi sono tornato indietro ed è stato scioccante rendermi conto di come vivevo normalmente veramente scioccante molti molti oggi si chiedono facendo questa esperienza che stanno facendo ora apprezzando alcune cose diverse che stanno accadendo ma come abbiamo vissuto fino a ieri ma cosa stavamo facendo molti se lo chiedono ma cosa stavamo facendo è chiaro che ovviamente moltissime attività vanno fatte deviso no cioè bisogna essere in presenza un commesso deve spiegare deve mostrare un vestito a qualcuno che lo indossa bisogna essere lì in presenza ma tutte quelle attività che possono essere fatte altrimenti tutti quegli impiegati che passano le giornate chiusi nei loro uffici davanti a dei monitor come ora stanno chiusi nella loro casa meglio stare chiusi in una casa che dentro un ufficio davanti agli stessi monitor facendo le stesse ore di lavoro senza spostarsi e senza aggiungere traffico al traffico sono milioni di persone che significano milioni di auto milioni di motorini in movimento nelle nostre città che significa inquinamento acustico inquinamento da gas e da sostanze altrettanto insidioso del coronavirus per la salute di tutti noi con la differenza che coronavirus produce danni rapidi e tu vedi rapidamente la malattia farsi avanti è una malattia anche mortale in molti casi mentre quegli altri sono più insidiosi per la salute perché si instaurano dentro di noi a poco a poco producono lo stesso effetto nel tempo passando magari attraverso anche fasi di lunga medicalizzazione e sofferenza e via dicendo eppure eppure nonostante questo in modo inspiegabile se ci riflettiamo noi ci eravamo abituati a vivere in quel modo molti ancora fanno fatica a rinunciare a quel modo di vivere e li capisco perché erano abitudini eccoci tornati alle abitudini di cui parlavo prima noi in qualche modo dopo circa un mese più di un mese ci stiamo abituando un po ad un ritmo di vita diverso e a una modalità che ci è apparsa subito scomoda perché perché diversa da quella caotica alla quale eravamo abituati e solo apparentemente quella era più libera perché noi non eravamo liberi di scegliere se respirare o meno i gas di scarico delle auto se abiti in città ti tocca quello e basta non c'è un'aria diversa da respirare da poter scegliere insomma ci stiamo appena appena un po organizzando e abituando questa vita strana ed ecco che si avvicina alla fase 2 uscire di casa questo non sarà facile per la nostra psiche non sarà facile per niente l'esempio che ho fatto io piccolo prima del rientro dall'isola dove c'era il silenzio e non c'era inquinamento luminoso è poca cosa rispetto a quello che noi dovremmo fare come esperienza ma bisogna prepararsi noi abbiamo visto quanta capacità di resilienza abbiamo e quanta capacità di adattamento ci siamo abbastanza rapidamente abituati a una situazione diversa ci abitueremo alle cose che verranno dobbiamo avere fiducia in questo devo dire che anzi ci sono molte persone che non vedono l'ora di tornare a fare quello che facevano prima però altri se la fanno quella domanda scomoda ma che stavamo facendo ma come stavamo vivendo e si interrogano molto su questo e su un'altra possibile vita perché possibile perché dico possibile vita perché la stiamo vivendo la stiamo sperimentando in questo momento noi la stiamo sperimentando poter vedere le stelle brillare nella notte e respirare quest'aria pulita non ingolfarci nel traffico non sentire questo rumore costante non vivere questa costante frenesia questa corsa continua verso mete non così soddisfacenti in fondo no certo certo avere questo cioè avere queste questi miglioramenti nella nostra vita potendo però uscire liberamente senza dover indossare le mascherine senza la paura del contagio senza stare a un metro di distanza un metro di distanza anche questo anche questo fa parte dell'insegnamento di ciò che stiamo apprendendo attraverso questa esperienza essere obbligati a stare a un metro di distanza ci ha fatto ricordare la bellezza della vicinanza ci ha fatto ricordare e rivalutare qualche cosa che non prendevamo più in considerazione a cui eravamo abituati e che davamo per scontato ci ha fatto riscoprire la bellezza del contatto fisico dello stare a braccetto dell'abbracciarsi perché noi siamo questo noi siamo esseri sociali esseri relazionali che hanno bisogno di questa vicinanza perché il nostro stare in relazione ha moltissimo a che fare con il corpo siamo esseri incarnati in un corpo fisico non solo mentale abbiamo bisogno di questo contatto tra i corpi se la nostra esistenza potesse essere solo mentale avremmo solo una mente con la confrontarsi con gli altri esprimeremmo la vita solo attraverso la nostra mente mentre invece abbiamo corpi corpi che sentono il contatto che percepiscono il calore il piacere dello stringersi il piacere della carezza e anche i nostri desideri affetti sentimenti emozioni si esprimono attraverso i corpi attraverso i segni dei corpi e i contatti tra i corpi è un paradosso straordinario nel quale noi siamo immersi veramente un paradosso noi viviamo concettualmente separati dagli altri cioè la nostra mente ci tiene separati dagli altri viviamo ognuno per sé ognuno per il proprio piccolo orticello però siamo esseri relazionali e appena qualcosa ci impone una distanza fisica e quindi tangibile dagli altri da tutti gli altri che poi corrisponde nel corpo alla distanza che sempre la nostra mente mette tra noi e gli altri ecco che sentiamo il bisogno più profondo emergere quello della vicinanza quello dell'appartenenza corporea quello del legame con l'altro con gli altri con le persone con la razza umana ora oggettivamente un metro è un metro non è tanto è solo un metro ma sembra una distanza terribile sembra un crepaccio insanabile quel metro crea un disagio interiore inspiegabile perché anche se solo un metro è un metro che significa separazione che è l'esatto contrario di cui ognuno di noi ha bisogno ovvero sentire l'unione sentire il conforto del contatto sentire il calore della vicinanza corporea l'amore ci porta ad unirsi ad un'altra persona per dare e ricevere amore nella vicinanza nel contatto fisico e quando le cose non vanno tra due persone è proprio la distanza dall'altro che ci fa soffrire proprio quella mancanza di contatto che ci ferisce quelle spalle montate quel quel passo indietro ecco quelli sono della stessa natura di quel metro e vivere oggi la distanza di un metro da chiunque rappresenta per noi la perdita di quel contatto con la motivazione sanitaria di ridurre il rischio del contagio ci è stato offerto di sperimentare la perdita del contatto proprio per apprezzare e riscoprire il suo contrario cioè la bellezza della vicinanza dello stare insieme della condivisione dell'abbraccio del contatto fisico non so a quanti di voi è successo come a me in quelle lunghissime code di alle volte due anche tre ore per entrare nei supermercati incolonnati a tre quattro passi di distanza dalla persona che sta davanti e dalla persona che sta dietro e di a un certo punto intavolare una conversazione che magari inizia così tiepidamente i soliti convenevoli poi sui soliti argomenti su quello che sta succedendo dopo due ore la conversazione è diventata battuta scherzo allegria simpatia reciproca fino a scambiarsi il numero di telefono o almeno un saluto carico di empatia un augurio per i giorni a venire e con chi con sconosciuti con i quali mai prima avremmo scambiato due parole ognuno chiuso in sé ognuno chiuso nei propri problemi nei propri pensieri che oscurano la mente la fanno diventare piccola chiusa blindata in ciò che è mio e che riguarda me queste queste sono piccole esperienze di riunione nelle quali il consueto senso di separatività si ritrae un poco e lascia attraverso un bisogno profondissimo affiorare il desiderio di stare insieme e non di dividersi non di distinguersi come abbiamo sempre fatto e facciamo sempre quella frase che abbiamo letto sugli scatoloni dei presidi sanitari che i cinesi per primi ci mandarono ormai un mese fa venendoci in soccorso agli inizi di questa vicenda e che recitava siamo onde dello stesso mare foglie dello stesso albero fiori dello stesso giardino c'era scritto questo sulle scatole delle cose che loro ci mandavano per aiutarci quel frammento di poesia una poesia antica una loro poesia antica non riguardava solo i popoli non si stava parlando della di cinesi e italiani di popoli ma riguardava ognuno di noi rispetto a tutti gli altri rispetto a chi ci sta intorno e quindi quel metro quella distanza di un metro imposto per motivi di motivi sanitari per motivi di preoccupazione per il contagio è stato quel metro ed è per noi un grande insegnamento che ci spinge ad annullare quella simbolica distanza per scegliere la vicinanza in ogni sua forma per un grande cambiamento che siamo invitati a interpretare quindi la cosa più importante che ci insegna questa esperienza è il superamento del senso di separatività il quale senso di separatività oggi lo possiamo vedere è la forma più alta di contagio sociale che noi abbiamo incarnato ed è anche la forma peggiore di inquinamento psichico alla quale ci siamo assoggettati il mio suggerimento questa pillola di oggi è un suggerimento per oggi e per i giorni a venire e di far sì ognuno come può ognuno come ci riesce che tutto quello che ci sta avvenendo non sia per noi solo una grande tragedia per tutte le persone che sono morte e per le decine di migliaia di altre persone che piangono quelle perdite non sia solo perché è scampato al contagio una grandiosa seccatura o un doveroso sacrificio per questa emergenza sanitaria ma che sia anche un punto di partenza per trasformare qualcosa nella nostra vita psichica e di conseguenza nella nostra vita di relazione di conseguenza nei nostri comportamenti nella vita ognuno come può ognuno come ci riesce io sono davvero convinto che ridurre questa esperienza che stiamo facendo ad una gigantesca seccatura sarebbe davvero una perdita drammatica toglierebbe senso a tutto quello che stiamo vivendo non intendo una perdita drammatica in termini di tempo di cose fatte o non fatte non intendo in termini economici sarebbe la perdita di una occasione forse unica di cambiare veramente e noi abbiamo tutti quanti inseguito nelle nostre menti il cambiamento per tutta la nostra vita senziente da quando usciti dall'infanzia abbiamo iniziato a ragionare con la nostra testa in maniera più o meno autonoma criticando sempre tutto e tutti a volte con ragione ben intesa abbiamo criticato il politico di turno lo strapotere di alcuni sugli altri l'ingiustizia la corruzione dilagante abbiamo criticato gli organismi preposti a guidarci le istituzioni le scuole le università abbiamo tutto abbiamo criticato scelte industriali scelte economiche per tutto e per tutti abbiamo coltivato dentro di noi il dissenso anche la critica molto aspra il giudizio la condanna molte volte ognuno di noi ha detto se ci fossi io a decidere la prima cosa che farei tutti l'abbiamo detto però tutto questo ha sempre avuto fino ad oggi per ognuno di noi il tratto caratterizzante dell'impossibilità tutto questo ha sempre avuto il sapore di un desiderio inattuabile di una fantasia non si passa facilmente dal desiderio all'azione al volere vi ricordate quando nella prima pillola ho fatto ceno al passaggio dalla dimensione degli effetti subiti a quello di agire cause per produrre effetti diversi basterebbe già solo soffermarsi su queste considerazioni appena fatte in modo da permettersi in questo nuovo silenzio a cui non siamo abituati ma che ci permette di sentire di più di quello che succede dentro di noi permettersi di intercettare nel proprio mondo interiore un modo diverso di concepire se stesso in relazione con gli altri un modo diverso di percepire se stesso in relazione con gli altri come già sta avvenendo ora che siamo così limitati non so se riusciate a immaginare l'impatto anche solo sul piano psicologico che questo cambiamento avrebbe nella vita di ognuno e di tutti noi per questo proprio per questo che il mio pensiero oggi va a quei volontari che sono scomparsi per aiutarci che si sono immolati per gli altri per noi e non erano obbligati a farlo che hanno ascoltato una spinta interiore che ha fatto superare loro il senso di separatività che guida costantemente i nostri comportamenti quotidiani e li ha spinti fuori di casa ha acceso in loro il coraggio e e loro forse possono oggi rappresentare per noi l'esempio di qualche cosa di nuovo a cui guardare con rispetto con ammirazione e con molta gratitudine li tengo proprio nel cuore e auguro a tutti voi di poter fare altrettanto